Quarta giornata nel girone playoff del campionato Berretti, il Padova alla Piani ospita il Renate in quello che è uno scontro diretto decisivo. Entrambe le squadre infatti sono prime a punteggio pieno del proprio girone. Chi vince praticamente è ai quarti di finale. I biancoscudati sono reduci da otto partite utili consecutive di cui sette vittorie. Stanno molto bene, lo fanno vedere fin dai primi minuti. Nodim riceve questo pallone sulla destra, l'appoggio all'indietro per Antonello che va al cross di prima intenzione. Trova Campora che calcia al volo ma non trova la porta. Sedicesimo minuto risponde così il Renate con questo cross il colpo di testa di Diaferio che termina non molto lontano dal palo difeso da delle Monache. Bonavina alla mezz'ora riesce ad addomesticare bene questo pallone, entrare in area di rigore, a calciare con il sinistro però anche lui non inquadra la porta. Al trentasettesimo minuto, il primo episodio decisivo del match. Il Renate riesce ad entrare in area di rigore, a guadagnare con questi rimpalli questa occasione e poi a Campora. Terra così sala per l'arbitro è rigore, un po' scomposto l'intervento del terzino biancoscudato anche se il numero 11 del Renate si lascia un po' cadere. Abbiamo fatto stacche però dal dischetto è bravissimo delle Monache ad intuire il tiro di Gatelli, a deviarlo quel che basta sul palo e a salvare così il Padova si resta quindi sullo 0-0. Nel secondo tempo il Padova continua ad attaccare, Nodim sfiora quello che sarebbe stato un gol sensazionale. Il Renate si difende bene e poi quando trova il Varchi giusti è molto pungente, qua con Ranuncovic va con il destro, pallone termina alto, 16 minuto. Calcio di punizione di Cagliari, sveta più in alto di tutti, ancora lui, ancora il capitano, Corrado Salvatore e riesce a segnare così l'1-0 meritato per il Padova. Esplode il pubblico della Piani, Salvatore va a festeggiare sotto quella che è la piccola curva della formazione Berretti, grande entusiasmo alla Piani. Il Padova sente vicino, qualificazione, quarti di finale, anche se deve continuare a difendersi perché il Renate è molto pericoloso. Qui c'è questa azione delle monache, esce, poi il Padova riesce in qualche modo a liberare, anche se non è finita la palla, arriva a Sala che calcia così. La sfera termina alta, attenzione a quello che succede al ventitresimo minuto. L'arbitro sente qualche parola di troppo in mezzo all'area di rigore del Renate ed espelle direttamente Gatelli. Padova ha il vantaggio di un gol e di un uomo, sembra quasi fatta, eppure al venticinquesimo minuto c'è questo nuovo calcio di rigore. raccordato dall'arbitro al Renate, incredibile. E anche qui la decisione sembra un po' generosa, non mi pare colpire soprattutto la palla oltre alla gamba dell'avversario. Fatto sta che il direttore di gara decreta un nuovo calcio di rigore, questa volta non sbaglia Citterio. Pareggia i conti al venticinquesimo minuto e Renate riesce con un uomo in meno ad agguantare il Padova e 1-1. I biancoscudati hanno comunque ancora più di 20 minuti a disposizione per cercare di ritrovare il vantaggio con occasione qui per Poncia, che però da due passi non riesce a metterla dentro Telesi, molto caparbio nel recuperare questo pallone. Entra in area di rigore, no Dimm, è un rigore in movimento, ma lo sbaglia. Il numero 11 è biancoscudato, allora il Padova deve anche stare attento perché con Costa e Renate va al tiro. Con il sinistro la palla termina fuori, siamo già al primo minuto di recupero. Il Padova affolla l'area di rigore del Renate, si accende una misca, ci prova Timpanaro, ma il suo destro finisce alto. Era l'ultima occasione, così finisce 1-1 tra Padova e Renate. Tutto rimandato, il discorso qualificazione alla prossima e ultima giornata. Il Padova farà vita all'Albino Leffe, Renate andrà a Vicenza con una vittoria. Comunque i biancoscudati sarebbero sicuramente qualificati ai quarti di finale del campionato Berretti.